Ha violentato una prostituta costringendola ad un rapporto sessuale causando le lesioni guaribili in 20 giorni e poi la minacciata di morte in caso avesse denunciato l'accaduto. Rapina, mano armata, violenza sessuale, sequestro di persone, minacce aggravate, questi reati per cui deve rispondere un 34enne di Francavilla al mare che è stato arrestato questa mattina dai carabinieri della compagnia di Pescara su richiesta del GIP del Tribunale Gianluca Sarandrea. La brutta storia si è verificata il primo luglio e ha visto protagonista una prostituta romena che ha poi avuto la forza di denunciare il fatto ai carabinieri che hanno avviato le indagini e rintracciato il presunto responsabile. Il 34enne Francavillese arrestato questa mattina aveva tentato, come evidenziato dalle indagini dei carabinieri, di violentare un'altra prostituta, sempre romena, nel Natale scorso ma la reazione della donna aveva fatto saltare i suoi piani. Come siete riusciti a risalire a questa persona e a ricostruire i fatti? Determinante è stato il contributo che ha dato la ragazza, abbiamo chiamata Francesca. Francesca ci ha fornito una descrizione fisica assolutamente dettagliata del suo violentatore e ci ha fornito una serie di particolari sul luogo, sulle modalità della violenza che ci ha permesso, dopo un sacco di tentativi fatti attraverso l'utilizzo delle banche dati, di poter giungere ad un soggetto che poteva essere compatibile. Sono poi scattate la ricerca palmo palmo sul territorio e lo stupratore è stato individuato. Nel corso delle indagini inoltre sono state sentite altre prostitute ed è emerso che anche un'altra ragazza che si prostituiva sempre nella stessa zona, tempo addietro, intorno al periodo di Natale 2013, aveva subito un tentativo di stupro, sempre da una persona che per la descrizione fisica e per la descrizione dell'autovettura era perfettamente compatibile con l'uomo da noi individuato. Inoltre in questa seconda violenza accertata l'uomo aveva utilizzato una pistola e nel corso della perquisizione è stata rinvenuta appunto questa scaccia cani, questa pistola giocattolo è priva del tappo rosso utilizzata per la tentata consumazione.